Dio, attenti! Credo che dobbiamo scoprire chi sta cercando di comunicare con noi. Non possiamo aiutarti se non sappiamo chi sei. Puoi dirci il tuo nome? Oh, ecco che va! Ok, S. I. S. T. E. R. Sorella. Sorella? Sorella di chi? Dai, ma scherziamo! Taci! Chiedi la sorella di chi? Josh! Deve essere... Sì, ok, bene. Chiedi quale sorella allora. Ashley, chiedi chi è. Con chi stiamo parlando? Anna? Sei tu? Oddio! Qui siamo alla follia. Josh? Sta lì? Sto bene. Sicuro? Possiamo fermarci? No. Senti, se vuoi... Voglio sentire cosa dice! Non so da dove cominciare. Pensaci. Se questa è davvero Anna, potremmo scoprire cos'è successo quella notte. Josh? Ce la faccio. Ok. Fatemi pensare. Anna! Ci manchi! E... Vogliamo sapere cosa ti è successo. Puoi... Dircelo. Cosa ti è successo? B... E... T... R... Non mi piace. Tradita. Ma cosa vorrebbe... Ehi, non ha finito. Oddio. K... B... L... L... E... B... No! Uccisa! Non le abbiamo uccise! Era solo uno scherzo! Es... Es... Scalmati, ok? Dobbiamo... Dobbiamo saperne di più. Mi spiace! Mi spiace così tanto! Che cosa significa? Chiedi... Chiedi cosa è successo. È l'unico modo per sapere. Fallo, esce! Ok. Ok. Come sei morta? Anna, che cosa ti è successo? L? I? B? Biblioteca. Forse c'è qui. Che indizio l'ha? R? O? O? Prova! C'è... C'è una prova! In biblioteca! Porca troia! Chris! Sapete una cosa? No, è ridicolo. Non è vero. Josh! Non so cosa stia succedendo! Ascoltate. Io non so... Non so se questo scherzo ridicolo riuscirà ad aiutarmi a superare il lutto o se servirà a chissà cosa, ma non mi piace! Josh, no! Hai voluto usare tu la tavola spiritica! Ehi, calmati, non è colpa di essere... Non ho bisogno di questo schifo, ok? Ora basta! Dobbiamo seguirlo? No, no. Starà bene. Diamogli... Diamogli un po' di tempo. Non è colpa sua! È stato folle! Il puntatore è volato via dalla tavola! Sì, sì. Se facevi finta hai fatto proprio un ottimo lavoro. Ma no, che non facevo finta! Dovremmo fare come ha detto. Andare a guardare in biblioteca. Jess? No! Jess? Oh, porca troia! Dove sei finita? Non è... divertente. Jess? Ehi! Sei lì? Cazzo! Stavo per farmela sotto. Ma che cazzo sta succedendo qui? Jessica? E dai! Davvero, prometto che non ti uccido quando... Oh mio Dio! No! Che ridere! Non... no! Aspetta, aspetta! Devi vedere, devi... Io non guardo niente! Guarda, no, no! 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 Hai registrato tutto! Guarda che faccia! Ero spaventato, Jess! Non puoi fare una cosa del genere! Nel bel mezzo della foresta, poi! Cazzo! Scusa, mi ti ho spaventato! Se lo fai vedere a qualcuno, io... Tu cosa? Io... Ti uccido! Non sapevo che urlassi come una vera ragazzina, Michael! Non conosci veramente qualcuno se non lo vedi prima spaventarsi a morte! A quanto mi risulta, sono ancora vivo! Oh, davvero? Già! Dovrai fare di meglio! Ehi, mi stai sfidando! Vai, spero proprio che tu sia pronto! Perché molto presto dovrai affrontare tutto il mio diabolico ingegno! Oh, no! Oh! 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 Wow, mi sembra di essere nel paese delle bravite. Sono pieno di sorprese. Che diavolo è? Era qualcuno che gridava? No, no, sarà stato soltanto uno scogliattolo. Credo. Che postaccio. Che? Hai sentito? No. Ehi là? C'è qualcuno? Porca troia! A momenti ci restavamo secchi. Affascinante! È proprio come avevi detto tu, Michael. Eh, cosa? E il capanno? No, no, no. Già. B 02 ع B No, 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 no. Grazie a tutti! Ehi, guarda questa maschera. Ah, perché? Così strana, vero? È inquietante. Per me ti piace. Vuoi un bacio? Mike, piantala! Ok, come vuoi. Bella maschera. Oh, oh, oh. Ma cos'è? Non lo voglio sapere. Merda! È terribile. Cazzo, non ce la farà mai. Ehi, bello. Oh, mio figlio. Ehi, bello. Povero animale. Ma tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Mike soffre così tanto. Presto sarà tutto finito. Tieni duro. finirà presto. Via! Via! Oh, mio Dio. Ma che cos'era? Non lo so! C'è un ponte. Vieni qui, Mike. Vieni qui. Deve essere un orso. Guarda! Andiamo sul sentiero. Ci siamo quasi. Forza, dobbiamo andare. Lo so! Mike, prendi la chiave. Apri! Oh, mio Dio. Ci è mancato un pelo. No. Cosa? Tutto sotto controllo. Tranquilla. Strazzate. No. A cento per cento. Centodieci. Accidenti. Mi sembra di aver corso una maratona. Qualcosa di simile. Era un orso? Sì. Per forza. Sono molto veloci. Cioè, io non l'ho visto. Ehi, quella cosa non entrerà qui dentro. Promesso. Come fai a dirlo? Perché so che gli orsi non possono aprire le porte dei capanni. Li ho visti aprire delle portiere. Cosa? Dove? Su internet. Davvero? Beh, qui non siamo su internet, Jess. Questa è la realtà. E ti assicuro che nessun orso o chissà cos'altro aprirà questa porta. Forse hai ragione. Ok. Allora mi sento quasi tranquilla. Quasi. Tipico. Non era certo questo lo scele che mi aspettavo, Mike. Già, c'è qualche spiffero, vero? Beh, se non altro c'è il camino. Non ci serve il fuoco per scaldare l'atmosfera. Michael, io sono una signora e una signora ha bisogno di un certo romanticismo. Ok. Una signora vorrebbe stare abbracciata al suo uomo davanti a un bel fuoco, immersa in un'atmosfera come si deve. Vedrai come arriva il caldo se iniziamo a strofinarci un po'. Mike, fuoco e luci d'atmosfera. Sì, mia signora. Ah, questa andrà bene per l'atmosfera. Bene, i ceppi sono pronti. Manca un cerino. Oh, merda. Cazzo, Mike! Eh? Oh, cazzo! Cosa? Dove diavolo è? Cosa? Che succede? Sparito! È sparito! Jess, calmati. Cosa è sparito? Il mio telefono, Sherlock. Non lo trovi? Merda no! Devo averlo perso fuori. Ah. Cazzo. Non posso perderlo. I miei mi ammazzeranno. Vuoi comprarne un altro? Sarebbe il quarto quest'anno. Ok, ok. Beh, ti aiuterò a cercarlo. Deve essere fuori. Già. Io non credo sia il caso di uscire ora con l'orso. O quello che è. Ok. Guarda, guarda. Guarda cosa ho trovato. Potevi pure trovarli prima se volevi un applauso. Guarda cosa ho trovato. Guarda cosa ho trovato. Guarda cosa ho trovato.